20 sono, sulle migliaia di italiani truffati da Banca Etruria e via dicendo, gli italiani rimborsati. La ministra che propone di cambiare la Costituzione per andare avanti aveva e ha tuttora lunga vita il papà che era vicepresidente di una banca che ha rovinato 90.000 risparmiatori italiani. Io ricordo il signor Luigino D'Angelo, 68enne, pensionato Enel, suicida a Civitavecchia l'anno scorso perché Banca Etruria gli aveva mangiato tutti i risparmi. Se magari stasera il ministro Boschi ci spiega che fine hanno fatto i soldi di Banca Etruria e come intendono aiutare i risparmiatori truffati, Cari Marche, Cari Ferrara, Cari Pieti, Monte del Paschi di Siene, tutto il resto magari siamo inutili. Per quanto riguarda le vicende legate a mio padre, che come sa è stato vicepresidente non operativo, senza deleghe per otto mesi, è stato commissariato alla banca dal nostro governo, ha pagato le sanzioni e sta continuando a pagare le sanzioni perché da noi la giustizia è uguale per tutti, non si fanno favoritismi, quindi mio padre ha pagato e sta continuando a pagare. Per quanto riguarda i obbligazionisti che sono di Banca Etruria come di tante altre banche, perché ora Salvini non mi faccia credere che tutto il problema del sistema bancario italiano è una piccola banca territoriale come Banca Etruria, altrimenti possiamo parlare di quelle del Veneto, possiamo parlare di tante altre banche. Per quanto riguarda gli obbligazionisti, che non sono le cifre che ha dato lei, sono stati innanzitutto già rimborsati 300 obbligazionisti e non 20, quindi il dato è sbagliato. Ce ne sono altri che verranno rimborsati perché questo governo ha predisposto delle misure che consentono di risarcire, neanche di risarcire, di ristorare nell'immediato fino all'80% la grandissima platea degli obbligazionisti che hanno redditi basi o che hanno investito meno di 100.000 euro e attraverso i giudizi arbitrali, se si dimostra che sono stati truffati perché dovranno dimostrare di essere stati truffati in un giudizio, avranno il risarcimento se sono stati truffati. Se si dimostra che sono stati truffati perché dovranno dimostrare di essere stati truffati...